Proviamoci! Perfetto! Agganciato! Vi abbiamo danneggiati! L'abbiamo preso! Scorazzato nemico distrutto! Mertaglio acquisito! Cingolo colpito! Scorazzato nemico danneggiato! L'abbiamo preso! S'entrato! Siamo immobilizzati! L'abbiamo preso! S'entrato! Preso! Agganciato! Bel colpo! L'abbiamo preso! Mertaglio perso! Rompio al fuoco! S'entrato! Li abbiamo danneggiati! S'entrato! L'abbiamo preso! Scorazzato nemico distrutto! Cingolo colpito! S'entrato! Li abbiamo appena aggraffiati! Corazzato nemico danneggiato! Li abbiamo danneggiati! Cingolo colpito! S'entrato! Corazzato nemico danneggiato! Peccato! Mertaglio acquisito! Hanno danneggiato! Hanno danneggiato il motore! Dobbiamo rallentare! Motore distrutto! Abbiamo fatto il possibile per sistemare il motore! Il nostro motore è fuori uso! Dov'è andato? Motore sistemato però andiamoci piano! Il nostro motore è fuori uso! Il nostro motore è fuori uso! Il nostro motore è fuori uso! Già! Il nostro motore è fuori uso! Grazie a tutti.